Il chilometri ed è partito! Ragazzi, si stanno rischierando. Abbiamo l'irrispettoso Riverli e il Stragola Boot. Ma vabbè, ricordati che il tuo rimane a una certa età è particissimo, Luca è bello, più depresente, molto bene. Due cilini davanti da corso, il seguito è sportellata alla prima curva e ha avuto l'anelio per due cilini, la bluzzo. Gira da solo, tutti i giri sono felici, ma anche del perno. Partito, vediamo chi entra dal primo, chi entra dal primo ed è la biga del primo! Ma è bucchiatissimo! Ma è bucchiatissimo sto ragazzo, non ce l'è! Vediamo cosa dice alla prima curva, Musica Mai E' Ma è la prima curva, poi c'è unain di persone attrazione e un'annahcotte a tutti i miei e un'arriza, e allora è qui? Ucchiaemi, sede il piatto! anche un'arriza, non, e attivo come sempre e attivo come sempre Grazie per la visione 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti